Al Fausto Coppi va in scena la sesta giornata del campionato di Serie D Girone A. La capolista Bra, guidata da mister Fabio Nisticò, vince con merito 4-0 contro un Dertona mai veramente in partita. Gli ospiti giocano 30 minuti da grande squadra e già al nono passano in vantaggio con un bel diagonale di Pautassi, sicuramente il migliore in campo. I braidesi insistono e dal sedicesimo ancora Pautassi crea scompiglio in area. La difesa del Dertona si salva a fatica. Subito dopo si registra una timida reazione dei Leoncelli, ma Mencagli viene pescato in offside. Al trentesimo Aloia segna il 2-0 sfruttando un errore della difesa tortonese, dopo che Cizza aveva respinto un tiro secco di Minai. Al minuto trentasei D'Affonchio ha una palla buona in area, ma non riesce a concludere. La ripresa inizia molto male. Un altro errore clamoroso mette in condizione chiabotto di centrare il tris. Gli uomini di Turi sono alle corde. All'undicesimo è bravissimo Cizza a sventare un altro pericolo. Ma la partita termina al venticinquesimo, quando Tuzza sfrutta l'ennesimo alleggerimento sbagliato e batte ancora Cizza con un gran tiro a giro. L'ultimo leone ad arrendersi è la Cava, che al trentesimo scalda le mani di Ribero. Finale di partita, Bra batte Dertona 4-0.